Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. Il campo di alta pressione si consoliderà ulteriormente, posizionando i suoi massimi sul centro Europa e inglobando anche l'Italia. Al sud una debole circolazione instabile potrà generare qualche debole piovasco, in contesto però stabile e soleggiato. Cesserà anche la ventilazione settentrionale sul vessante adriatico, consentendo un aumento più consistente delle temperature prossime ai 30 gradi. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni, per lunedì 29 maggio. Cielo sereno al mattino su quasi tutti i settori, qualche nube in più sul Salento. Dal pomeriggio possibili brevi piovaschi sulle aree ioniche di Puglia e Basilicata, altrove i cieli rimarranno sereni o poco nuvolosi. In serata torna il sereno su gran parte del territorio. Dalla grafica notiamo che le temperature risulteranno in ulteriore lieve aumento nei valori massimi, con punte che sfioreranno i 28 gradi sul tavolire e nelle pianure interne, venti deboli dei quadranti settentrionali tendenti a variabili, mari da poco mossi a mossi. Ma eccoci nuovamente con la foto del giorno. Ringraziamo il nostro telespettatore, Egno Mascia, per questo bellissimo scatto che ritrae un temporale in avvicinamento su Faieto. L'inizio delle precipitazioni è delimitato da una shelf cloud, ovvero una nube a muro tipica di questi temporali. Se volete inviare la vostra foto del giorno, contattateci al numero WhatsApp e alle mail che vedete in sovra in pressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.